E dunque, amareggiata ma pronta a riprendere la battaglia? Come sempre, non mi fermeranno mai, non mi fermeranno mai, non mi fermeranno mai vinta, assolutamente. Buona fortuna naturalmente. E a proposito di donne, sempre dall'Ansa, leggo attivista bielorussa Antilukashenko, nel mio paese il terrore, leggiamo, la notizia viene da Fabriano, inserita nella lista nera dei servizi segreti bielorussi, l'attivista per i diritti umani Olga Karakht ha rilanciato la sua battaglia nella sede della provincia di Pesaro Urbino, nel mio paese c'è solo il terrore, da 30 anni Lukashenko ha preso il potere e non lo lascia. Tutti i giorni decine di persone vengono arrestate e dopo le proteste del 2020 proseguono le repressioni, più volte incarcerata dal regime, dichiarata nove volte terrorista, Olga, vincitrice del premio Langer 2023, porta avanti la sua attività non violenta di denuncia con l'organizzazione la lei fondata, Our House, 2000 persone vengono aiutate dal lato economico e con il pagamento delle spese legali e degli alimenti. Il nostro impegno è rappresentato dalla campagna No Minens, condotto contro la coscrizione nell'esercito di Lukashenko per i bielorussi che non vogliono andare in guerra. Bene, come vedi ci sono problemi internazionali con al centro donne coraggiose ed eroiche che si battono contro la rittatura e contro la repressione, ma ognuno ha il proprio fronte, ma non è una lita fra Comari e Maceratesi nella sua? Assolutamente no, la mia è una mancanza, io penso che ci sia l'articolo 21 della Costituzione che dice che c'è una libertà di pensiero, di parola e esiste una parola che si chiama democrazia, quindi tutte insieme bisogna decidere, non far decidere solo alcune persone, quindi assolutamente mi opporrò a questa cosa. Potevo benissimo abbandonare, invece di aspettare la revoca, io potevo benissimo abbandonare quando c'è stata la modifica del regolamento, infatti il 14 febbraio del 2022, in una ripresa del Consiglio delle donne, una consigliera chiese all'assessore alle pari opportunità se pensavano di portare questa modifica nel Consiglio delle donne, in modo che ci sia un confronto costruttivo con tutte. Era stato risposto affermativamente, ma per ben due volte non si sono presentate, quindi il confronto, loro chiedono confronto che non hanno mai voluto con le associazioni e quindi ci siamo trovati un attimino tutti dilusi di questa situazione e ripeto, tantissimi rappresentanti delle associazioni stanno abbandonando e questo mi dispiace perché va a finire una realtà che funzionava, perché ripeto, le donne mettevano a disposizione il loro tempo e le loro passioni per questi eventi, però adesso è così. Volevo chiederle questo, macerata in 25 anni di amministrazione non c'è stato un po' un monopolio da parte della sinistra sulla cultura e la destra non si è vista molto in questi tre anni, adesso invece c'è questa vicenda un po' strana. Sinceramente in Commissione Cultura l'abbiamo sottolineato varie volte, abbiamo proposto tantissimi eventi anche noi consiglieri, però sinceramente non hanno mai accettato nulla gli assessori di riferimento, anch'io ammetto questa situazione, logicamente quello che funziona va portato avanti, però logicamente delle proposte dall'amministrazione di centro-destra dovevano sicuramente arrivare. Posso dire una cosa cattiva? Soprattutto, soprattutto. Secondo me ci sono degli accordi tra i due, perché è una continuità, perché vedo un attimino un po' tutti i remissivi, non lo so, ripeto, è la prima volta che faccio politica, però non c'è una vera opposizione, non lo so come funziona. È vero che Macerata racconta, che è veramente una grande rassegna, mai regionale, sugli autori, sui libri, non ha avuto nessuna flessione, i soldi in questi casi, no? Essendo Macerata racconta proprio... Sì, ma le cose che funzionano vanno portate avanti, però iniziative, io ho proposto tantissime volte, come tutti sapranno, se leggono i giornali, Pop Sofia, che secondo me è una delle iniziative più belle che possano esistere, perché c'è cultura, c'è musica, c'è tutto. Anche innovazione. Anche innovazione, perché se ne vendano una più del diavolo, come dico io, alla banalità del male, appunto, del diavolo. Quindi secondo me c'è Ancona, Roma, Bologna, girano ovunque, c'è vita nuova, stanno ovunque, però a Macerata non attecchisce, chissà come mai, io l'ho proposto più volte in Commissione Cultura, però si fanno orecchierare i cani, però c'è da dire una cosa, lo Sferisterio, noi abbiamo fatto un trasferimento di soldi per deficit di 100 mila euro per lo Sferisterio, 100 mila euro. Ma mi spiega perché abbiamo perso 70 mila euro, cioè abbiamo perso nel senso lo Sferisterio in Macerata. Per ritardo dei bandi, situazioni, io non lo so. C'è stata una domanda in ritardo, post mandata in ritardo, inviate in ritardo. Bisogna vedere la realtà dove sta, se degli uffici o delle domande realmente, non si sa. A parte la responsabilità delle persone, perché queste occasioni non bisogna assolutamente perderle, ripeto, sono tanti soldini, tanti soldi come 100 mila euro di deficit per l'Arena Sferisterio, cioè assolutamente, sono 100 mila euro che noi cittadini pagheremo, cioè non è che pagherà chi è responsabile, l'assessorato di riferimento, magari, no? Si aumentano gli stipendi, ogni anno si aumentano gli stipendi, però le responsabilità non ci sono, non lo so. I stipendi sono elevati, in effetti. La legge Draghi, è la legge Draghi che lo permette. Sì, 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 in effetti, ecco. E intanto, ecco, una notizia che è andata alla grande, nella curiosità, nella lettura dei marchigiani, ripulire i fiumi grazie ai muli, a proposito di ambiente, corso per mulari sul Catria. E questo è interessante perché è in riferimento alle alluvioni che ciclicamente si abbattono sulla nostra regione. Prova pratica finale, leggo dall'ANSA, per i partecipanti a un corso per formare i primi 10 mulari, conduttori di mulo, dunque, nell'ambito del progetto raccolta e trasporto legna con muli o cavalli nell'area del Monte Catria, nelle Marche. L'iniziativa si è svolta nella mattinata di ieri, il 27 febbraio, sul greto del torrente Bevano. Si continua nella nota lo stesso che durante l'alluvione del 15 settembre 2022 esondò, provocando enormi danni nella zona, soprattutto nel comune di Cantiano, Pesaro Urbino. Diversi motivi che hanno spinto col diretti, associazione allevatori Cavallo del Catria, Università Agraria della Popolazione di Chiasema e Università delle 12 famiglie originari di Chiasema, a organizzare il corso come spiegato durante un convegno svoltosi proprio a Cantiano lo scorso dicembre alla presenza del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirko Carloni. Benissimo, ecco il mulo avrà questo ruolo importante a favore dell'uomo e dell'ambiente e della natura. Altre notizie? Però bisognerebbe applicare le leggi a favore dell'ambiente. Ci sono stati nuovi incontri a livello nazionale, ma non è stato deciso niente purtroppo. Si parla, si parla, però decisioni effettive. Siamo arrivati ormai a una situazione di degrado assoluto. Respiriamo e mangiamo di tutto. Anche a livello europeo e mondiale. Tutte e due, perché si riuniscono, ci sono stati dei riunioni, ma decisioni effettive niente. Perché è sempre una questione poi legata all'economia, no? Intanto Cronache Maciattesi ci informa che un lupo è stato avvistato e trovato a Caldarola, mi sa, perché era Caldarola. Si, ed è stato travolto dalle auto. Si, da investito, si. Nell'entroterra, appena nell'entroterra di Macerata e quindi sono scesi a valle. Si, se non hanno cibo su, si avvicinano per forza, così. Si, 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 arrivano quasi sulle spiagge, no? Si. Ecco. E poi altre notizie maceratesi, interessanti, l'iniziativa di Sandro Parcarolli legata al turismo e cioè Bere Italia. Ah si, che ha passato l'attività a Guzzini. Marco Guzzini. Marco, sinceramente, è un bravissimo... È stato anche consigliere comunale. Si, 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 lo conosco da tantissimi anni. L'ho conosciuto così, sinceramente. Poi gestisce benissimo la sua attività, ottimi prodotti, ottimi prodotti, varietà, infatti secondo me è un'ottima location per lui. Si. E poi leggo sempre al Corriere Adriatico riguardo al turismo, i conti non tornano tra regione Atim, mentre Acquarolli dice che c'è una crescita dei flussi, dall'altra parte si dice che invece c'è una contrazione, anche se minima, dell'1%. Chissà chi ha ragione, veramente. È sempre così, ci sono sempre contraddizioni, no? Chi dice l'opposto? Anche il caso dell'aeroporto influisce, no? È tantissimo, tantissimo, perché era una cosa bellissima che ci fossero tantissimi ruoli da Ancona, no? Si. Però purtroppo non è decollato in tutti i sensi. Sì, in tutti i sensi. E veramente le marche giocano molto sul turismo, essendo una regione meravigliosa dove c'è tutto. E al centro potrebbe raggiungere facilmente tutto, però purtroppo è così. E a proposito del turismo, è una carta che gioca molto in provincia di Macerata Civitanova, per assumere quel ruolo di capoluogo morale. Sì, sì. Babilano come loro. Infatti ho comprato casa lì, quindi perché ormai è una città che offre tutto, eventi di tutto, sempre. È più agibile, no? Più anche dal punto di vista... Ma i parcheggi, mica sono tutti a pagamento, cioè si parcheggia ovunque, solo in centro c'è il parcheggio a pagamento. Quindi la gente, poi tutto in pianura, anche quello favorisce, anche questo favorisce rispetto alla colligia. Io a Macerata avrei messo minimo una scala mobile come in tutte le città, come in Perugia, no? Per agevolare le persone a venire su. Ma adesso c'è questo progetto della scala mobile a livello di Rampazzara, che sostituirebbe l'altro progetto che aveva elaborato Silvano Iommi, che speriamo... Ma sì, sì, sta meglio, uscirà più presto, Silvano, sì, sì. Ah, beh, questa è una bella notizia che ci dà lei, sì. Sì, sì. E poi l'assessore della mia lista, una prossima persona, ironica, quindi... Siete rimasti in poche la lista di... Eh, una se n'è andata. Eravamo qua, c'erano due assessori e tre consiglieri. Quindi una andata via subito, io dico sul carro dei vincitori, come dico io, tutti corrono sul carro dei vincitori. Sì, come diceva Fragliano, l'italiano corre in soccorso del vincitore, no? Mmh. Benissimo, anzi malissimo. Sul Corriere Adriatico vediamo una notizia particolarmente simpatica a proposito di ambiente che parla di un'evasione dal carcere, anzi un'evasione dal carcere per un gatto in calore. La mia gatta era in calore, quindi non potevo non essere vicino. Si sarà apparto. Sì, comunque è stato poi condannato, arrestato e condannato. Insomma, notizie che ci sollevano un po' lo spirito di altre un po' più pesanti. Come questa, a proposito dell'economia, sull'ultimo report di Trend & Market, nel 2023 4.861 imprese in meno e quindi il 3,5% però c'è un 15,8% di ricavi in più e meno, purtroppo, 17,8% di investimenti. Quindi si sente un po' questo peso dell'economia, del lavoro, dell'occupazione che vengono meno. Sì, conosco tanta gente. C'è proprio estrema povertà. Io vedo gli alunni delle scuole che non si possono pagare le gite scolastiche, quindi insomma è dura. Secondo me, vabbè, un errore è stato fatto nel periodo Covid, che hanno chiuso tutte le attività, perché gli altri stati si sono gestiti diversamente, quindi probabilmente potevamo fare diversamente anche noi. Sì, però gli aiuti ai cittadini più poveri bisogna darli assolutamente, quindi il nostro comune fa abbastanza, devo dire, su questa cosa, si è abbastanza sensibili su questo, sì. Leggo dal Corriere Adriatico, il verdetto, biglietto da Dio alla moglie a uno strozzino alle Calcagna per 700 euro, ne chiedeva 1.900, anche questo fa parte appunto di un'economia in declino, strozzata, che strozza il piccolo artigiano, il piccolo commerciante e che, anche questo è testimoniata da quest'altra notizia, il raggiro, mamma, ho bisogno di molti soldi, i truffatori le portano via, oro e Rolex per 25.000 euro, catturati dalla polizia, gli anziani che vengono spesso truffati e raggirati, nonostante le raccomandazioni. Troppo la solitudine è quella che uno si affida, insomma, alle persone sbagliate. Assilla, d'Ancona, assilla, leggo dal Corriere Adriatico, i passanti offrendo sesso in cambio di soldi, ha i documenti falsi ed è ricercata, arrestata. E poi ladri dappertutto, razzia dei ladri in tre comuni, villette saccheggiate, anche con i proprietari che dormono, lo leggiamo da Ascoli Piceno. Poi da fermo vendite taroccate, raffiche di denuncia e per le truffe online, il colpo più grosso di 22.000 euro. Insomma, bisogna stare molto attenti. Sì, perché la povertà porta a questo, purtroppo, una guerra tra poveri, come dico io. Una guerra tra poveri. Purtroppo bisognerebbe mettere in campo le forze dell'ordine. Cioè, bisogna vedere le forze dell'ordine in azione. Io, quando giro, difficilmente vedono persone in divisa che girano per la città. Io mi sento protetta se ci sono, io se passeggio e mi trovo 10 uomini dietro, sinceramente un po' di paura, un po'. Di sera non vado in giro e quindi bisognerebbe mettere in campo questo. Noi Macerata l'abbiamo riempita di telecamere. Invece bisognerebbe riempirla di forze dell'ordine. A Porto Sant'Empidio, furto in un stabilimento balneare, i poliziotti bagnini salvano il ladro che aveva tentato la fuga notando e poi lo arrestano. A proposito di Macerata, Domenico Cioppettini, che è il segretario del Sur, per il sindacato di polizia, denuncia il fatto che entro la fine dell'anno... Ci sono stati tagli. Ci sono stati tagli che porteranno al 50% o meno l'organico delle forze dell'ordine, della polizia di Stato. Nonostante che, allora guarda a Segilli, ai tempi del caso Pamela aveva rassicurato che avrebbe cambiato anche la sede. Perché dopo il periodo Covid si è detto aumenteremo il numero dei medici. Cioè, nella nazione, se non ci sta la sanità, la scuola e la sicurezza... E poi il suo marito è un merito importante. Noi dicevo, le tre cose, sanità, scuola e sicurezza, sono queste le cose che bisogna puntare. Cioè, anche in una città, puntare su queste tre cose e il resto dopo. Anche gli eventi che facciamo per ogni assessore. Bisogna puntare su queste tre cose principali e, dopodiché, dedicare i soldi ad altro. Invece pare che le indicazioni siano diverse. Purtroppo. E a proposito di sanità, leggo dal Corriere Adriatico, Lo scontro, le farmacie ospedaliere, KO, lettera di fuoco dei direttori alla regione. Incarichi senza formazione, così il sistema va in tilt. Allora, l'assessore Saltamartini, come lo giurica lei che ha parato questa riforma, dove grandi novità non ce ne sono, medici e infermieri in fuga, all'estero magari dove... Ma giustamente, io vedo il lavoro di mio marito e tutti gli ospedali devono coprire personale che non c'è. Cioè, non c'è più il rapporto... Il suo marito lavora all'ospedale Macerata, sì. E non c'è più il rapporto con il paziente. Perché vedi mille persone, adesso hanno fatto anche la telemedicina, hanno una cosa bellissima. Insomma, tutta all'avanguardia. Però il rapporto con il paziente, il paziente è sofferente, quindi ha bisogno di una costanza, cura e presenza del suo medico ospedaliero. Assolutamente i tagli sulla sanità non dovrebbero essere fatti, però purtroppo non ci sono soldi e tagliano ovunque. E quindi si aspetta adesso che l'ospedale nuovo venga cantierato. Probabilmente metteremo la prima pietra, come tutte le amministrazioni, le piscine le hanno iniziate loro, speriamo di finirle noi. Cioè, purtroppo cinque anni sono pochi. Sandro ha promesso questa cosa qui. Probabilmente metteremo la prima pietra, che poi sarà fatta... Sandro Parcaroli. Sì, Sandro Parcaroli, nostro sindaco, che sicuramente verrà portata avanti da chi ci seguirà, se staremo ancora noi oppure qualcun altro, insomma, però l'ha promesso e lo farà sicuramente. Sì, perché lei pensa che entro l'anno potrà essere cantierato? La prima pietra. La prima pietra, capito. Sì, qualcosa sì. Qualcosa sì. Dal nostro inizio mandato, quello dice, quindi sicuramente è stato sostenuto anche da... La consigliera regionale Anna Minchi ha lanciato la notizia che, insomma, il bando per la progettazione dopo... Sì, sì, le notizie sono buone, quindi... Dopo l'ANAC, dopo il sito dell'ANAC... Se ci sono i soldi andremo avanti, insomma, giustamente. Lei dice che se ci sono i soldi, metti in dubbio? No, spero di sì. Perfetto. E poi, a proposito sempre di sanità, leggiamo dal Corriere Adriatico, Burioni, famoso virologo della TV, boccia 398 studenti su 408. Le posso dire che fa bene, perché la scuola italiana, siamo arrivati a dei livelli... Cioè, si promuove con una facilità unica. Cioè, mandiamo avanti persone che a volte non sanno scrivere neanche l'italiano. Quindi, è come un'azienda. Ormai la scuola è diventata come un'azienda. Cioè, chi più promuove, più va avanti, più ha iscrizioni, non lo so. Molte volte vediamo anche, no, degli articoli di giornale, dove neanche il giornalista stesso, no? Quindi, secondo me, un po' di selezione fa bene. Perché siamo troppo... C'è anche l'analfabetismo di ritorno. Eh, anche perché no, non bisogna fare questo, non bisogna fare le scuole. Io, infatti, molte volte dico, diamo i registri ai genitori, mettessero loro i voti, perché se no... Siamo arrivati a questo livello. E dice ancora, appunto, Burioni, il 44% non ha saputo indicare come fare gli agnosi di influenza. In effetti, ecco, conferma ciò che ha detto lei. Ritornando sempre sul fronte della malavita, vita dura per i ladri di biciclette. Siamo ritornati a rubare biciclette, come nel dopoguerra, il famoso film di De Sica. Vita dura per i ladri di biciclette, furto in centro, arresto lampo, camera di sicurezza, rito direttissimo. E ancora, riguardo a una sentenza in tribunale, violenza sulla moglie, lei è costretta a dormire con la figlia in un pollaio, condannati a nove, a due anni e ad un corso per uomini maltrattanti, maltrattanti. E ancora, i domiciliari, questi sconosciuti, erano gli arresti, ma entrava e usciva all'hotel house. Doppia denuncia per un furto di occhiali da 1.000 Euro. Insomma, è il caso Verdini, in minore, naturalmente in formato minore, che ci viene dalle marche. Verdini è ritornato in carcere, Dennis Verdini, per tre cene a Roma, quando doveva essere nella sua villa, ai domiciliari, a sua villa di Pianti Giullari, a Firenze. Insomma, cene costate care all'ex senatore di Ala. Ecco, siamo quasi alla fine e domani, insomma, è la... Maria Antonietta verrà decapitata. La butto sull'ironia, perché altrimenti che dobbiamo fare? La situazione è questa. Ma ripeto, a me è da fare... L'IDI di Marzio mi è piaciuta tanto questo riferimento. Un po' anticipato, perché doveva essere poi a Marzio, no? Sì, 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 infatti. No, ripeto, sono amareggiata di questa situazione, anche perché anche i consiglieri uomini potevano intervenire in qualche modo, siccome sono tutti complici alla fine, perché se uno accetta, no? Come se io vedo un omicidio e dico, ah va bene, mi giro dall'altra parte e continuo. Non è questo l'esempio, però accettare un modo, un modus operandi che non va bene. Questa è la cosa allucinata, che tutti permettono questa situazione. Volevo semplicemente concludere dicendo che non mi toglieranno mai un'està intellettuale e la libertà di mandato, perché io sono stata eletta dai cittadini maceratesi, quindi continuerò a combattere. Sì, spero di resistere, sono tutte strapugnalate, recapitazioni, se sarò ancora viva e non distanguata. Sì, penso di resistere, vedremo come andrà avanti per il bene di macerata. Anche per una testimonianza. Sì. Resterà sempre nella lista civica a sostegno di Sandro Parcavato? Per ora sì, perché Sandro è il sindaco che ho scelto e anche se non mi protegge, insomma, sì, perché penso che ci debba essere una quarenza, però ripeto, le situazioni possono essere tante. Dopo questa situazione, insomma, abbastanza dura e sinceramente, ripeto, pensavo un minimo di… poteva intervenire in qualche modo, ma non l'ha fatto, però per ora resto lì e vedremo in seguito cosa ci riserva il futuro, insomma. Grazie professoressa De Padua. Grazie a lei. Naturalmente buona fortuna anche per il futuro. Grazie. Grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito fin qui. A presto e alla prossima.